Spiazzando i pronostici dei bookmaker di Viale Verrastro, che davano la composizione dell'aggiunta come dato da acquisire lunedì mattina, il governatore Lucano Marcello Pittella ha reso noti i nomi del suo esecutivo, servendoli a pranzo nell'ultima domenica dell'anno. E, c'è da starne certi, per molti nel centro-sinistra regionale sarà stato un pasto indigesto. Con la designazione dei quattro assessori, che insieme a lui saranno chiamati a gestire la cosa pubblica in Basilicata, infatti, il neopresidente della regione di fatto ha messo in atto il primo concreto step della rivoluzione democratica, che ha sempre detto essere alla base del suo mandato. Come andava profilandosi nelle ultime ore, infatti, si tratta di quattro personalità esterne al Consiglio e, soprattutto, dato inedito, tutte non Lucane. Trova conferma il nome di Raffaele Liberali, che ricopre l'incarico in seno alla Commissione europea nell'ambito della Direzione generale per la ricerca e l'innovazione di Direttore per l'Energia, nominato assessore alle politiche per lo sviluppo, lavoro, formazione e ricerca. E adesso si aggiungono Flavia Franconi, quota rosa del gruppo, docente presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Sassari e, in passato, componente della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del Comitato Tecnico della Consulta Nazionale per l'Alimentazione e la Sicurezza degli Alimenti, alle politiche per la persona. Ancora Aldo Berlinguer, figlio di Luigi, avvocato cassazionista e docente di diritto all'Università di Cagliari, già nel CDA di MPS Anton Veneta, che ha ricevuto la delega all'Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, e Michele Ottati, funzionario della Commissione europea, a capo dell'Unità Promozione Prodotti Agricoli e legato a Satriano di Lucania, alle politiche agricole e forestali. Pittella ha invece tenuto per sé le deleghe agli affari istituzionali, alla protezione civile, alla cultura, al turismo, alla programmazione e alle finanze. La Basilicata, ha commentato in un videomessaggio diffuso tramite i social network, ha bisogno di volare alto e di agganciare l'Europa con la sua programmazione 2014-2020. Ha bisogno di persone che garantiscano alla nostra regione visione, esperienza, talento e slancio internazionale per affrontare e risolvere le emergenze e proiettarsi verso il futuro. Ho voluto, ha proseguito, far valere le mie prerogative di Presidente, non potendo delegare a nessuno questa assunzione di responsabilità, e l'ho fatto con l'animo sereno di chi sa di aver scelto nell'esclusivo interesse della comunità. Sono certo, ha concluso, che l'intera maggioranza condividerà questo approccio avanzato e sarà al mio fianco in questa strada che punta al rinnovamento. Su quest'ultimo punto ora si gioca la prova di tenuta del centro-sinistra Lucano, col PD chiamato a respirare profondamente, e delle sotto coalizioni interne create sia attorno a Pittella in occasione dell'ultimo confronto elettorale regionale e culminate nella lista Pittella-Presidente. Per ora l'unico commento ufficiale, oltre a quello di Pittella, è quello del suo predecessore, attualmente segretario regionale del Partito Democratico Vito De Filippo, il quale, sottolineando che al nuovo esecutivo va ora il compito di mettersi al lavoro per affrontare le tante questioni che i Lucani hanno affidato con fiducia al centro-sinistra col voto del 17 e 18 novembre scorsi, ha comunque dichiarato che Pittella e la sua squadra potranno contare sull'apporto della maggioranza, che con le tante risorse e capacità degli eletti in consiglio non farà mancare un contributo di forte progettualità per individuare le soluzioni migliori all'altezza delle attese della nostra gente.